Andrea e Giulia litigano a Capodanno 2018, ecco cosa è successo. Grande fratello Vib, primo litigio dell'anno per la coppia Andrea-Giulia. Prima elite del nuovo anno per la coppia composta da Andrea Damante e Giulia De Lellis. Le ultime di Gossi privelano che questo pomeriggio l'ex tronista di Uomini e Donne ha postato sui social una stories dove lo vedevamo impegnato in un piccolo litigio con la sua fidanzata Giulia. Il video è stato pubblicato sul profilo ufficiale di Andrea Damante ed è stato ovviamente visto da centinaia di migliaia di temi, che seguono l'ex tronista su Instagram, curiosi di scoprire tutto ma proprio tutto sulla vita sentimentale dei Damellis. GF Deep News, il primo litigio del 2018 tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Le ultimissime di queste ore sulla coppia del Grande Fratello vi privelano che Andrea è apparso un po' addirato nel momento in cui Giulia ha tagliato la lasagna, che avevano preparato per il tranzo di Capodanno 2018 con un mestolo da cucina sbagliato. Damante avrebbe preferito utilizzare un altro mestolo, ed ecco che c'è stato questo piccolo litigio testimoniato anche dal video pubblicato su Instagram. Andrea, infatti, avrebbe preferito che la sua fidanzata utilizzasse un altro mestolo per tagliare il pezzo di lasagna ma Giulia non ha voluto ascoltarlo ed ha proseguito dritta per la sua strada. Nonostante questo piccolo litigio, però, i Damelli si preparano a vivere insieme questo 2018 d'amore, che per loro potrebbe essere il vero anno della svolta. Si vocifera, infatti, che i Damelli stiano pensando seriamente di convolare a nozze, secondo i bene informati, infatti, la coppia Andrea-Giulia starebbe maturando la decisione di sposarsi o come vi dicevamo il fatidico matrimonio potrebbe avvenire proprio verso la fine del 2018. Arriva il matrimonio tra Andrea e Giulia, ecco le ultime news, i due fidanzati, reduci dall'avventura al GF VIP, infatti hanno ammesso più volte di essere fatti l'uno per l'altro e in particolar modo Andrea ha rivelato che in questi mesi in cui è stato distante dalla sua amata Giulietta, ha capito che è innamorato follemente di lei e che vuole averla al suo fianco come moglie e mamma dei suoi figli. In attesa di avere notizie certe sul matrimonio, le ultime news di queste ore rivelano che Andrea e Giulia hanno trascorso delle giornate di vacanza prima della fine del 2017 in compagnia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la coppia più chiacchierata di questo grande fratello VIP, a testimoniarlo ci sono le foto postate su Instagram e Facebook. e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.